Avremmo voluto parlarvi di questo. Questo. Oppure di questo. Invece quest'anno il nostro pensiero è rivolto principalmente a loro. Per la tradizionale giornata di sicuri sulla neve. Oggi non vi racconteremo di tecniche, attrezzature, trucchi e segreti per portare a casa la pelle in sicurezza nelle attività che eravamo abituati a fare. Il nostro è un messaggio al cuore. Finché l'intera sanità è sotto pressione, scegliamo di frequentare la montagna puntando ad attività a basso rischio. Noi saremo sempre pronti per le missioni di soccorso. Ogni incidente, anche in montagna, aumenta la pressione. Per quest'anno, scegli una montagna diversa in attività a basso rischio.